ci troviamo qui davanti a tre nuovi acquisti del foggia incedit calcio con noi c'è anche il capitano della squadra morelli allora ragazzi innanzitutto grazie per essere qua e poi vorrei sapere da voi le vostre impressioni cosa ne pensate le prospettive gli umori insomma ciò che che vi ha portato a sposare il progetto foggia incedit e di conseguenza cosa vi ripromettete di mettere in campo perché noi di questo abbiamo parlato di giocare a calcio c'è un bel gruppo di amici che già conoscevo qualche anno prima eravamo giocati insieme credo che si può fare bene con questa scuola ci possiamo divertire è stata una bella scelta anche conosco anche io molti ragazzi il mister già ho avuto come allenatore quindi ha influito molto nella mia scelta e sicuramente ci tenderemo tante soddisfazioni anche per me diciamo la scelta è stata comunque dettata oltre dalla conoscenza del mister comunque dal gruppo che si è formato quest'anno penso che comunque potremmo dire la nostra comunque un bel gruppo e spero comunque che quest'anno ci possiamo divertire comunque dire la nostra in questo campionato penso che si sia allestita una buona squadra spero che comunque si riesce a prendere qualche altro punto di forza spero che tutti gli amici comunque alla fine siamo tante persone che ci conosciamo già da un po' di tempo il mister sono già un po' di anni che mi allena quindi penso che si farà una buona cosa una buona annata e spero che i risultati arrivino siano anche a favore nostro oggi è il primo posto per cui stiamo entrando nel vivo della fase della preparazione della squadra a breve comincerà il campionato per cui entriamo ancora più nel vivo di questo di questa avventura so che voi tre avete già giocato insieme se non erro nell'erdonia vincendo anche un campionato insomma per cui vi ritrovate vi conoscete avete già avuto a che fare tra di voi insomma credete che insieme potete dare quel di più sul plus al coging cedit per far disputare un campionato abbastanza competitivo puntare anche al massimo di questo veramente conoscerci è un gran vantaggio perché conoscere parecchie persone del gruppo facilita molto diciamo l'integrazione di tutti quanti sicuramente possiamo dare una grande mano conoscendo tutti i ragazzi e conoscendomi sicuramente daremo tutto per questa squadra e per questa società il fatto di conoscerci diciamo può aiutare può aiutare molto come ha detto il mio collega diciamo il gruppo anche gli altri altri ragazzi che già sono nel foge in cedit comunque sono molto validi quindi spero che tutti insieme diciamo di amalgamare bene per bene il gruppo insieme al mister con un campionato di vertice comunque io conosco bene paolo che il capitano da parecchi anni e so che persona è quindi so anche il gruppo che si è andato a formare e quindi per me questo ha influito tantissimo inoltre come ho già detto prima il mister è una persona seria e quindi è una scelta dovuta a molto da questo punto di vista perché se non ci fosse stato il mister non so se a questo ora sarei qui però questo mi ha spinto molto e spero di ripagare la fisica del mister e di tutte queste persone che amano questa società e fanno di tutto per farla diciamo la categoria vale fino a un certo punto perché poi alla fine dipende anche dalle persone con cui si ha a che fare perché comunque ci siamo trovati in situazioni in cui la categoria era superiore però diciamo la serietà del progetto non era quello che ci avevano detto all'inizio per cui noi ci stiamo affidando comunque a voi e spero di ricambiare speriamo di ricambiare la fiducia che ci state portando diciamo la maggior parte delle persone che che faranno parte di questo gruppo diciamo che già le conosco proprio a livello umano calcisticamente qualcuno si qualcuno un meno però penso che si può fare bene e spero che raggiungiamo diciamo il nostro obiettivo e spero che comunque tutti possono dare una mano nei migliori dei modi per farsi così direttamente bene ciao 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 ciao